Uno dei meriti più sottovalutati della gestione di Giuseppe Murigno nella sua permanenza a Roma è stata quella della valorizzazione anche economica di alcuni giovani che venivano dalla nostra primavera di cui clamorosi casi sono stati Tahirovic dato all'Ajax e Felix Afena dato alla Cremonese pagati cifre molto importanti, perfino Missori è stato pagato mi pare 2 milioni di euro con pochissime presenze in Serie A, ma il giocatore, il giovane veramente lanciato e valorizzato al meglio da Giuseppe Murigno si chiama Edoardo Bove, da lui ribattezzato per l'aggressività, la notevole aggressività in campo e anche questo suo modo di correre un po' con la lingua penzoloni Cane malato, c'è anche uno striscione allo Stadio Olimpico, un soprannome anche divertente che è diventato subito popolare fra i tifosi Edoardo Bove è nato a Roma nel 2002, romano, giovanili nella Boreale Donorione dal 2008-2012 e poi ancora nelle giovanili della Roma ha fatto tutta la trafila dal 2012-2021 nella Roma dove mette in sequenza 65 presenze con la maglia della prima squadra e due reti di cui una importantissima, ricorderete forse anche molto bella nella gara d'andata finita 1-0 due anni fa contro i tedeschi del Bayern Leverkusen proprio lui che è di madre italo-tedesca che ci portò in finale, nella gara di ritorno Mourinho mise in scena una delle sue famose partite difensive e proprio in Germania a questo punto potrebbe andare a finire questo ragazzo perché prima si era parlato dell'interessamento del PAOC di Salonicco che lo voleva prendere in prestito poi si è fatto avanti come sapete il Nottingham Forest che ha subito incontrato i favori di Bove che guarda con interesse alla Premia all'Inghilterra che ha offerto 10-11 milioni mentre la Roma ne chiede 15 ora mi pare di capire che l'Eintracht di Francoforte lo vuole in prestito e a questo punto, forse anche perché ripeto, avendo la madre che è italo-tedesca probabilmente parla anche un po' il tedesco si potrebbe fare con l'Eintracht ma la vera notizia di oggi che è arrivata a Trigoria è che Edoardo Bove oggi nello spogliatoio di Trigoria ha svuotato il suo armadietto ha preparato gli scatoloni la Roma perde Edoardo Bove questa è la notizia di oggi un ragazzo che oltre ad essere un buon giocatore duttile, giovane, con margini di miglioramento inesplorati tra l'altro è un ragazzo che ha la maturità scientifica e si è iscritto al corso di laurea in Economia e Management presso la Università di Roma Luis Guido Carli quindi è una persona che ha anche una certa testa forse sarà questo che dà fastidio forse è uno che pensa troppo sarà diventato scomodo perché io immaginare che Bove nella povertà assoluta, nella mediocrità che è imperversa nel nostro centrocampo da qua a fine stagione, con tutte le partite che ci aspettano si possa affermare che non ci sarà utile mi sembra veramente un'operazione complicatissima quindi per me stiamo sbagliando abbiamo già sbagliato perché come vi dicevo Bove ha svuotato l'armadietto quindi partirà partirà forse proprio verso Francoforte una cazzata enorme perché questo era proprio l'anno sia nel quale ci sarebbe servito e sia perché lui questo secondo me sarebbe poteva essere proprio l'anno della consagrazione di Bove secondo me è potuto trovare spazio e anche far rifiatare giocatori come anche Cristante che sembrano abbastanza affaticati perché poi loro ci sono questi giocatori che sono arrivati dall'europeo che hanno fatto una preparazione tutta un po' particolare i 9-4 Mancini Sciarawi, Cristante e Pellegrini e effettivamente sono tutti e quattro abbastanza indietro come preparazione in particolare Sciarawi per il quale notizia dell'ultima ora speriamo che non si verifichi questa eventualità sarebbe entrato nel mirino last minute dell'Atalanta che ha avuto tanti infortuni e quindi sta nell'ultimo giorno di mercato valutando alcune posizioni speriamo che non si faccia quest'ulteriore cazzata e di oggi anche la notizia di un alterco che è stato smentito da Gianluca Mancini ma che sarebbe avvenuto durante e dopo Cagliari-Roma tra Mancini e De Rossi perché Mancini rimproverava a De Rossi il fatto di avere preferito Zaleschi a Di Bala che ovviamente a Cagliari non ha giocato perché doveva partire Ebram non ha giocato perché doveva partire hanno fatto giocare i giocatori che cercavano di mettere in vetrina perché c'era per esempio l'interessamento del PSV a Eindhoven per Zaleschi quindi è stato anteposto ancora una volta l'interesse economico di far quadrare i conti di fare plusvalenze di guadagnare di vendere giocatori all'interesse sportivo di fare risultati sul campo e in questo modo siamo partiti con l'handicap perché ragazzi voi capite da soli che con Di Bala dal primo minuto a Cagliari la Roma avrebbe vinto questa partita sono anche molto vicino nei 20 minuti in cui è stato in campo certo poteva anche accadere poteva anche infortunarsi è proprio per questo che non ha giocato ma noi dobbiamo guardare a campionato cominciato a campionato in corso ai giocatori da piazzare ai giocatori da preservare da infortunio quindi quelli da mettere in vetrina oppure dobbiamo pensare a questo cazzo di torneo che è già cominciato noi per qualche milione in più in saccoccia come si dice abbiamo stiamo rischiando di compromettere già una stagione perché ragazzi se perdiamo a Torino con la Juventus che è una possibilità abbastanza anche concreta vista che sprendi le condizioni di forma della Juventus qui si rischia saremmo non solo a 8 punti della Juventus ma anche a diversi punti da altre squadre quindi si parte praticamente con l'endica poi voglio aggiungere anche in conclusione al complegamento di questo discorso che io ritengo che siccome si sta valutando se provare Abdul Hamid o addirittura Danzo contro la Juve ecco io forse nel caso di Danzo posso fare un'eccezione perché si tratta di un giocatore che comunque è un pilastro della nazionale austriaca un giocatore che comunque giocava in Francia giocava in Europa rischia sicuramente la figuraccia perché è appena arrivato quindi non conosce proprio il calcio italiano non conosce i compagni cioè qui c'è un sacco di gente nuova che deve integrarsi e conosci ma se facciamo giocare Saud Abdul Hamid a Torino facciamo veramente una cacciata enorme perché questo arriva dalla rabbia ha bisogno di tempo ma non si può mandare al campo un giocatore così appena arrivato così a digiuno di quello che è il calcio europeo contro una squadra così forte ed esporlo a delle figuracce lui che è sì un uomo veloce ma anche che si troverebbe di fronte in Bangula che in questo momento è forse il giocatore più in forma della Juventus che è altrettanto veloce e che appare a tratti difficilmente contenibile proprio per questa sua per questo suo strepitoso stato di forma quindi io mi auguro che non si faccia la cazzata di scaricare sulle spalle di questo giovane arabo una responsabilità enorme perché si esporrebbe veramente a delle figuracce che andrebbero poi a minare il suo percorso a rovinare il suo percorso quindi io ripeto faccio questo video perché voglio prendere una posizione netta sulla decisione di privarsi di Edoardo Bove che secondo alcuni secondo molti è una decisione di Daniele De Rossi perché sembra che Daniele non apprezza Bove in quanto non lo considera un giocatore tecnicamente di qualità in grado appunto di garantire quella sua qualità 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 che dice sempre anche negli allenamenti ma Edoardo Bove è infatti un tipo di giocatore diverso tra l'altro la cosa più paradossale di tutta questa storia è che Edoardo Bove ha sempre dichiarato di ispirarsi a Daniele De Rossi in campo è quella la cosa più paradossale cioè in un certo qual modo De Rossi dovrebbe anche un po' rivedersi è vero che lui ebbe un esordio subito boom però è paradossale che lui si ispirava proprio a De Rossi ma è un errore madonnale giocatore duttile che può giocare in tanti ruoli che può entrare a partite in corso una persona seria che non rompe mai le palle come vedete non sta facendo polemiche neanche in questo periodo privarsi di Bove nella grandissima confusione che regna in questo momento sia a Trigoria che anche dentro il campo quando la Roma gioca è una scelta completamente da bocciare in questo periodo Grazie.